Eccoci di nuovo in sala, siamo al tavolo di Sergio Castelluccio, non è direttamente coinvolto nella mano ma c'è stata una bella action, cerchiamo di seguirla insieme. Siamo al 4bet, c'è stato un raise a 6.000 circa, un 3bet a 15.500 e ora questa 4bet che mi pare 23.300, no 33.300, vediamo come si evolverà l'andamento della mano, al tempo vedete Sergio Castelluccio, uno stack del tutto considerevole, uno tra i primi 5 del chip count, chiaramente questi sono momenti dedicati, siamo vicino alla zona bolla e c'è il fold con asso K suited a quadri, chiaramente il fold importante, probabile che ci possa essere history tra i due. In ogni caso noi siamo arrivati ai bui 1200-2004, ora andiamo a inquadrare il tabellone quando 75 giocatori sono ancora seduti ai tavoli, vi ricordo che il price pool prevede il pagamento per 56 giocatori, vedete anche l'ante a 300, quindi ci avviciniamo sempre più velocemente alla zona bolla. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti della sala, mi raccomando seguiteci sul forum di pokeritaliaweb.org, io vi auguro buon poker e ciao a tutti!